...di sangue come la fa... Lei è il parente Mussolini... Sì, questo è il chiesto... Ciao! Signor Alton, dobbiamo andare... Qua la sua segretaria? Ciao! Saluta! Stanno aspettando qui... Lei si rende conto... Vengo in covita! Goebbels! Lei potrebbe fare una pubblicità di un prodotto dermatologico Per dire, guardate il mio incarnato illuminato E invece c'ho la cupe rosa No! Sostituisci... Dobbiamo andare